Biciclette elettriche o classiche per risparmiare benzina, evitare lo stress delle code in automobile, ridurre l'inquinamento e muoversi in libertà ammirando il territorio. A questo mira il progetto Bici in Città, presentato oggi all'ACI di Taranto, consistente in un servizio di noleggio di biciclette in ogni circoscrizione, posteggiate in punti strategici e disponibili 365 giorni l'anno, come accade da tempo in tantissime altre città europee. Da anni io sento sempre chiedere questo servizio, c'è stato un tentativo in passato che purtroppo è fallito, ma da anni sento gente, ma perché Taranto è diversa dalle altre città? Bene, questo è il momento in cui la stiamo equiparando e uguagliando alle città europee. Taranto è una città di biciclette, noi a regime, l'obiettivo è quello di mettere mille, dieci postazioni per una circoscrizione, di cui ci saranno quelle elettriche e le classiche biciclette che tutti quanti usiamo normalmente. Ovviamente questo servizio ha tante finalità, tra cui anche quella turistica, perché certamente in una città in cui non c'è un servizio di biciclette, insomma penso che sia un po' negativo. Ma quello che è anche importante è che la lotta all'inquinamento, perché chiaramente io mi auguro e spero che migliaia di autovetture non circolaranno più, perché la scelta carrà su questo mezzo, ovviamente, elettrica e quindi non inquina. E un'altra cosa importante è quello che comunque il servizio, così come è successo già per i parcheggi, darà posto a molti collaboratori. Io ne prevedo come preventivo a regime circa 200. La fruizione delle bike è semplicissima. Con delle card personalizzate ci si regherà qui all'ACI di Taranto per una prima fase di registrazione e ricarica di queste card. Poi ci si potrà regare in uno dei quattro punti noleggio presenti in città, prendere l'e-bike e poi lasciarla in uno dei quattro punti, quindi non siamo obbligati a lasciarla nello stesso punto dove l'abbiamo noleggiata. Al termine del noleggio verrà poi detratto il costo relativo al noleggio. Naturalmente si sta pensando a delle formule molto flessibili, giornaliere, di mezz'ora o degli abbonamenti settimanali. Quindi finalmente mettiamo nelle condizioni il territorio di avere delle utilità, soprattutto per l'inquinamento, soprattutto per i local, quindi dare la possibilità ai tarantini di scoprire il territorio, ma soprattutto mettere nelle condizioni gli alberghi, i bimbi e le masserie di utilizzare questo servizio per fruire il territorio. Il servizio sarà fruibile anche ai diversamente abili e alle anziani con la presenza degli scooter elettrici appositi.